Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video Allora ragazzoni, andiamo a vedere il negozio oggetti che hanno messo il vikingone col mantello E beh, ovviamente ragazzoni, è troppo figo, non mi casano troppo queste skin, la prendiamo sicuramente, quindi acquistiamola, eccolo qua Magnus, è figo, figo un botto, figo un botto anche col mantello, veramente veramente figo Mantellone, e la skin comunque di livello, mi piace un sacco E oggi ragazzoni, andiamo a fare una partita in giocatore singolo, speriamo di vincerla, incrociamo le dita, e buona visione Ok ragazzoni, eccoci in partita, andiamo a Boschetto Bisunto oggi O meglio, ci proviamo ad arrivare, non so se ci arrivo, sì, per arrivarci ci arrivo, per carità Voglio vedere qua che c'era qualcosina interessante, oddio sì, c'è qualcosa interessante E potremmo decidere di fare un blizzino qua, perché c'è sto coso, cioè questo è uno dei fucili che io adoro praticamente In tutta la vita, meraviglioso, prendo danno o no? Prendo danno, molto bene Ok, GG Quella è una mitraglietta? Figa pure quella, direi Buono, si luta un sacco di roba qui, e GG, va bene, lutiamo sta roba Vai, vai, dammi la mitraglietta, dammi, 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 non ti preoccupare Raga, palesemente si luta meglio la pietra Tanto qua c'è sicuro qualcuno, noi abbiamo comunque un buonissimo Una base di partenza, è veramente buona secondo me, raga Perché mi sono fatto un botto di pietra? No, perché ci vuole di più allutarla, è quello il problema No, dice tutti avrebbero usato pietra, giustamente Comunque, non male, come parte iniziale, mi piace, mi manca un cecchino e stavo nel posto E ovviamente gli sceldini, perché senza shield, raga, ah, la vedo un po' complicatella Buono Beh, io mi prendo più materiale possibile Sono in safe, buono Qua dentro c'è sicuramente qualcuno, quindi andiamo a rompere i gabbasesi Che sta da altre parti sopra Ma io mi prendo tutto, per il momento Minchia, è fuori il fenomeno Sì, è fuori il fenomeno Oh, buono il medico Cioè, questo mi lascia un medico così? Sono folle Io non so dove sia lui Oh, la testina In dove cazzo stai? In dove cazzo stai? Eccolo, 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 eccolo che sta spaccando Che cosa minchia sta facendo? Ah, l'ho visto, sotto, sotto dove è? Ma veramente? Sei serio? Ma che cazzo stai facendo? Vabbè, ma veramente? Ma perché fai ste cafonate? Oh, la droga Eh, figa, su, madonna santa Sparati il medikit Mamma mia, raga Che mi si inguattano Che falle Che urto Ma mi danno urto di nervi, sta roba Fortunato che ho trovato il medikit Veramente Ok Reggiamo anche l'assaltino Che se lo utilizzeremo pochissimo Però stica Per il momento Allora, io devo lutare Sono dell'idea che devo lutare tantissimo Io finisco sempre i cazzo di materiali Ma veramente, raga È una maledizione questa per me Sentex le prendo Che qui non c'è passato nessuno Praticamente buono Perché ci andiamo noi Vollo Bello Fammi qualche shield Così Ok Shieldini trovati Molto bene Adesso ci facciamo un bel buffer di roba da Da prendere Sono contento Adesso ci stiamo Adesso ci stiamo Ok Ok Molto bene Boh Non tantissimo in verità, eh Pensavo mi facesse più ma Vabbè, ma questa mena, raga Eccola qua Che coglioni Dove cazzo Non so da dove cazzo Mi spara Vi giuro E vai a fare in culo Ok Ok Stronzo di merda E a rompere il culo, no? Riviaggi Riviaggi Stronzo Testa di cazzo Riviaggi Ok È un botto di roba Lo stronzetto Guardate la roba che c'aveva Ok Stava fatto anche un botto di kill Noi siamo messi malissimo, raga Siamo veramente rotti Siamo veramente rotti Ok Siamo veramente rotti No, non ce la facciamo Abbiamo un botto di materiali Per carità, ma Non trovo niente Mi fulmina malissimo Cioè, nel senso Ciao, grande È stato bello, ma Se non trovo un medikit o qualcosa Cioè, posso anche dire addio a tutto il resto Perché Ciao, ciao con la mano Stasera spacchiamo Cioè, siamo in quattro Mancanti avversari Ma non ce la faccio Cioè Meno che non riesca a trovare un medikit Se lo devo impallinare così Di più possibile Non posso fai dare a sto punto Ok, scusate E non c'è un cazzo Bain di zero Vaffanculo Mannaggia ragazzi Che palle Cioè, questo ha anche 10 shieldini Cioè, un botto di roba ragazzi Era assoluto Sì, sì Bende Cazzo Eh, vabbè Per forza Oh, raga Sti cazzi Che devo bendare Che devo bendare anche velocemente Buono 2G Bende Cioè La salvezza assoluta Raga Mamma mia GG Se mi riesco a bendare E non mi rompe il cazzo nessuno Mi riprendo anche l'altro No Forse le bende fanno co Non lo so Sono indeciso Buono 75 Mi vado a riprendere La mia cosa Perché questa era Ultra epic 1-1 Ponto estremativo Buono Via Entra in safe Andate a prendere giusto Giusto un paio di funghietti Se li trovo Sono ubriaco Ora che si fa Ora che si fa Macica Macica Sì Entriamo Risaliamo meglio Perché questo Sai Mena sta safe Cioè Secondo me Tire certe legnate Non è anche L'immaginare No Per il momento Ok Qui ci sono un po' di cose Mi sparo questi Sti cavoli Potrò dire che in questo cazzo di ultimi fight Non sarò senza materiali Per una volta Ebbene si raga Per una volta Sarò Con tutti i materiali Del caso Vedete che roba Giampirino E trappole Buono Oddio Oh my god Oh my god Oh my god Buono Qui l'ho stordito Che ho tirato Una cecchina Dallo strazzetto Stanno a camperà Stanno a camperà Ma sicuro Madonna che palle Che camperoni Merda Campero anch'io Sai che te dico Mi accende Mi accende Già c'era passato qui Che urto Questi stanno Si camperano sicuro Sono tre Si stanno camperando Tutte e tre Vediamo che cazzo faccio Fortino Vedrai Metto qui in mezzo Alla safe Proprio E mi sparo un fortino I materiali c'è l'ho Che cazzo Bene Ok Vediamo un pochino Ma quando si chiude la safe Sono più alto di tu Eccolo Visto Ha visto? No ma Quasi Sicuramente Da queste parti Tanto raga Non scappate Nel senso Non ve la levate Speriamo che Nessuno di loro Abbia lanciamissili Che la cosa Mi disturberebbe Albastanza Vedi Vedi manco in safe Ah sicuramente Si deve muovere loro Uno Uno strano Perché non li vedo Non so dove siano E questo è che mi rompe Perché non so dove sono Che c'è Che c'è Che c'è Qui c'è L'unico Non so dove è Che c'è L'unico Che c'è L'unico Non so dove assiste Merda No Si Buono Let's go To the beach Uno me manca raga Sto a far fuoco Sto a far cazzo di fuoco Se mi ero portato le bende Vedi che testa di cazzo Vabbè Sti cazzi Dai 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 Io rompiamo il culo Io rompiamo il culo Dai che io rompiamo il culo Mi manca uno Dai che me manca uno Io rompiamo il culo stavarta C'ho l'ansia Mi giuro c'ho l'ansia C'ho l'ansia raga C'ho l'ansia Questo sta camperando Porca miseria Che è l'urtonino Arby camper Perché ti costringono A giocare Anche a te così No No Vaffanculo sbagliato Ok adesso si chiude Vieni qua Sì Sì Madonna c'ho un'ansia Regà è incalcolabile Vi giuro Sei 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 Let's go Come on Come on raga Come on Ormai ho preso la mano Non si scappa più Let's go Cazzo Nuova vittoria reale Come un dragone Bene Oddio mi emoziono sempre ragazzoli Quando succedono queste cose Però GG tanta roba Grande bella partita Comunque ragazzoli Pezzo che per questo video Passa tranquillamente Se tutto vi ringrazio tantissimo Per la visione Lasciate un mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivervi Al canale se vi è fatto Di condividere il video Per farmi piacere persone Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Noi ci vediamo come al salito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti